Gocce di serenità, i conflitti umani, forza e debolezza, anche la persona più forte può avere momenti di debolezza, anche la persona più debole può avere momenti di forza, benvenuti nella razza umana. Quindi non serve vergognarsi e sentirsi in colpa con questo perfezionismo che ormai ha rotto le scatole. Dobbiamo accettare i nostri conflitti umani. Ultimo conflitto, libertà-dipendenza. Chi non ha pensato nella vita, modo, famiglia, lavoro, tutto e parto per le Maldive o per un altro posto? Tutti l'hanno pensato. L'importante è non farlo a meno che non si decida che è l'unica via.